Io sono Simone Laudiero e sono qui per rappresentare la buon costume e ho anche avuto l'ingrato compito di presentare la serata di stasera del meraviglioso mondo delle webserie, un titolo che già mi spingerebbe a non venire io di persona, però va bene, veniteci lo stesso, sarà già passata quando vedrete questo video. Questo meraviglioso mondo delle webserie è sicuramente un ottimo trampolino di lancio, un'ottima vetrina in cui chiunque può farsi vedere, può avere la sua occasione di mostrare il proprio lavoro e sperare di avere un seguito, di avere un ritorno di qualche tipo. Sicuramente per adesso diciamo che oltre questo trampolino non sembra esserci molto, diciamo che la piscina è vuota quindi tuffandosi in genere ci si schianta con la testa per terra, a parte a ricasi per adesso non sembra che il web possa essere niente di più che una vetrina, però uno intanto ha la possibilità di provarci rispetto a prima. Noi come Buon Costume, il mio gruppo si chiama La Buon Costume e abbiamo avuto un'esperienza industriale prima di arrivare sul web, abbiamo lavorato per anni per programmi come Camera Cafè, come Piloti, abbiamo scritto un sacco di SketchCom e poi a un certo punto ci siamo resi conto che lì non saremmo andati a nessuna parte, che la nostra carriera stava andando molto, molto lentamente e quindi abbiamo detto forse il modo migliore di dimostrare quello che valiamo è al di fuori di questo sistema industriale, ci siamo spostati sul web dove ci troviamo molto bene, facciamo un po' la parte dei secchioni ovviamente perché anche come età siamo un po' più, però ci divertiamo e poi siamo qui a Perugia dove ci divertiamo molto, ci veniamo ogni anno, ci fanno stare in un bellissimo albergo con la sauna, sono tutti in sauna tranne me che sto facendo questa intervista quindi direi che posso anche tagliare qui. Grazie a tutti!